Ciao a tutti ragazzi, buongiorno in questo nuovo video in compagnia di Manu Ciao Guarda che vedo che... si che video? Che modalità vuoi fare? Vi cercate dai Vai Mi vuoi mettere pronto? Ok no Ok Bella Ah Ricky, abbassa il volume di Bella figura Oh mio Non morire Come ti chiami Muocci muocci No non muocci Ma come quella va già a 5000 stelle Tara ha un botto di stelle già lei Perché mettevano lì a quanti ancora di più Vabbè io uso questa Cioè non è molto adatta a Pam Però almeno non perdo niente Ma perché Fofo sta lì fermo lì Muocci Mortaglio del cavolo Muocci 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 No Vabbè 20 C'hanno Che figura Figurina No è 0 Arriviamo noi qua con 0 Ma veramente Oh Muocci 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 No No Io non riesco proprio a uccidere persone Eh anch'io Ma Vabbè 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 ancora con Pam Io sono ancora Nabbo Ancora Muocci Muocci Sì Muocci Sì Non ci credo No Abbiamo 7 Vabbè però farò le ulti Cioè le ulti Sparano insieme No Spera 34 Noi 7 Muocci Muocci No dai rimane con 720 Ok Uccato 1 Grande Grande Che cosa grande Che hanno 40 Noi abbiamo 11 Mo tipo vinciamo Alla caso E vabbè poi Mozilla Magari Facciamo ricerchessi Madonna Vai Non so parlare Provivenza Arra 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 No arra Vabbè Poi dopo facciamo roba assalto Cioè Aspetta Eh ma roba assalto Non ho più tanti biglietti Vabbè Oddio Vabbè lo facciamo da uno Eh per una partita bro Perché Io non posso Fare con la modalità Che pochi biglietti Dove lo sparmiare Beh dai Io non ce l'ho Ma tanto Muocci Scappa scappa Vedi alla base Tutti dietro Tutti dietro Tutti dietro Proteggo 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 Via 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 Accidente Tieni Grande grazie Muocci Muocci Sì Wow No No Muocci Ucciso Ucciso Azz Azz No 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 Quella ce l'ha rubata tutte Dai Il nostro lavoro solo Dai Dovemmo ammazzare Bo Sto Nabbietto E mi curo qui Io vado ad uccidere Bo Vai Stavi lì E oggi Lo portavi qua Ma Stai qua pure la Ud No caro Non ti rubi tutto Scusa Ok No Vieni qua Ok Via via Scappa Non vieni Vieni Stai qua Stai qua Ho rifugiato Aspetta un po' di vita Ok Il nostro amico viene No Camperiamo Aspetta Non andare più Non andare più E non so Mi sono morto Prendene una No 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 Nabbo 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 Seguimi 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 Lui poi Ma perché non va a pushare Ecco Ok Stavo qua Fai il mio Stavo qua Vai Camperiamo Così Non è che si avrà Nabi Però Vabbè Sicuro possibile Ok dai Questo è vinto Bellissimo Andiamo a pushare Adesso Triompo Come è che Uno si chiamava P-Dragon Bello il nome Bellissimo Eh però Non voglio dirlo E finiva con la Vabbè Aspettate Ok Presi 20 punti Aspetta Non voglio essere pronto Devo aprire una cassa Molinco Qualcuno No Facciamo Ropassato Un attimo Una però Sì sì Vabbè Vabbè dai Facciamo le due Dai Però spendo Solo un ticket Andiamo No No Per come Vabbè Pam è forte Sto modalità Sì Cioè Vabbè Due pam Oddio No Vabbè Due pam è una mini Gun gigante Super mega Sì 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 Vieni qua Vieni qua Piccolo robot Oh no È già un colpo Che il mio record Di sto modalità Il mio record di sto modalità È 6 minuti Davvero No 5 minuti e 57 Il mio 4 minuti Per colmo Io dai Io ho rosicato Perché per poco Facciamo 6 minuti Aspetta Me lo porto Ma se la modalità È troppo difficile Perché a 5 minuti Gli zombie sono d'oro Sì Gli zombie robot E poi Sono fortissimi D'oro Oh divino Questi qua Perché poi sono d'oro Sono fortissimi Ma io sono arrivato Solo a Vedermi i rossi Vabbè 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 Metto la cura Qua Oh giù Ma così Stai venendo Eh Non lo so Infatti È un assalto Vabbè Una mini Ganciamo Con sta pam Doppia cura Magari Pam Non c'è la cura Dai Metti la doppia cura È una bellissima concetto Però Poi me lo fa Perché l'ho messo Questa È la mia Tanta tosse C'è va No vado qua a curarvi Forse la nostra amica È muoce È proprio Muociti No Sto morendo Non riesco Non riesco a non tossire Si va la nostra amica Se facesse qualcosa Appunto No Dai No Questa è stra persa Non ci credo È la prima volta Che perdo così Si ma perché la nostra amica Non sta facendo un tubo Eh appunto Vabbè Amica del cavolo C'è Muociti Non posso stare lì Adesso si è svegliata La nostra amica Madonna Muociti Io odio I cosi piccoli Con 500 Con 5400 Ma se giurata la mia cura Ora scusate se vero Non riesco a non tossire Eh beh Ok La cista Stiamo diffondendo Non è mai successo Che ha così poca vita La mia base Attento Manco me Abbiamo un amico del cavolo Ci credo Ok Io vado Ok Wow Io metto due cura qua Ok La doppia cura Ok Mi sono fatto male per Vedere Azzolino No Vabbè Mi butto del robot Ok Madonna Con i rossi hanno un botto di vita Ho rilanciato la cura Ok No Questi qui vanno male per me Eh Non so Sono troppo veloce Che ti raggiungo Sono più scuro e veloce Vabbè Dopo sta partita il video deve finire Perché E' già avevi bituti No ho sbagliato No ho sbagliato No ho sbagliato Scusate per la tosse Oddio Bella raga Oddio no L'ho ucciso L'ho ucciso No no Capsule Stiamo morendo Capsule Robot enorme Sono morto Addio Eh vabbè Dai bella partita però Vabbè 4 minuti Vabbè Eh Livello di esperienza 47 88 punti 88 cosi Abbiamo un'altra cassa Madonna Vinco Si sta caricando Raga Adesso Adesso miglioro Brock Oh no Niente 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 Allora saluta Ragazzi Se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Se sto like Anche Andate la campanellina Saluta Bro se vuoi Ciao raga Ciao Ciao